buongiorno buongiorno a tutti sono andrea barni e sono il coordinatore parlato svizzero del progetto interreg risico che sta promuovendo questo ciclo di seminari legate all'innovazione la trasformazione digitale nella piccola media impresa tramite un'attività concertata tra parte italiani e svizzeri cui sub si è coordinatore parlato svizzero assieme al haiti e ate dai siti ticino stiamo cercando di portare qualche pillola qualche elemento che supporti le aziende in questo percorso sempre diciamo sfidante e molto interessante che che le porta verso una trasformazione digitale l'acquisizione di nuove competenze e la trasformazione dei propri processi produttivi oggi all'interno del primo modulo che tocca quelle che sono un po più le diciamo le competenze menageriali andiamo caro un argomento che è estremamente interessante e estremamente attuale proprio in questo tipo di questo tipo di percorso che quello relativo alla gestione del cambiamento change management ne parleremo con con alessandro gianni che un grande esperto nel settore lascerò poi a lui la presentazione e prima di prima di lasciare la parola non voglio rubare rubare altro tempo all'attività volevo soltanto ricordare che questo webinar è diviso in due due sessioni quindi ci sarà quella di oggi dalle 3 alle 5 e poi quella invece di giovedì dalle 16 30 alle 18 e 30 quindi un percorso di due giornate in cui andare a parlare di gestione del cambiamento e capire come questo può essere approcciato all'interno dell'azienda non voglio non voglio riguardarvi altro tempo spero che il webinar possa essere di interesse per tutti voi e di ritrovarvi anche al ciclo di altri attività e di webinar che stiamo promuovendo vi metterò comunque all'interno della chat anche il riferimento alla pagina di iscrizione agli altri webinar che sono in programma nel caso foste interessati a darvi un'occhiata vi saluto tutti e vi auguro un buon ascolto grazie andrea adesso magari ecco che mi ripassa il controllo fantastico eccoci qui grazie tra l'altro mi fa molto piacere eccomi qua ora mi vedo io vediamo se riesco anche a condividere lo schermo perché non si voi mi vedete si stiamo già vedendo si si vede già ecco e adesso si vede anche la cover esatto bene perfetto allora siamo pronti a partire grazie andrea resti qui un po con me in questa fase di avviamento sì assolutamente sono qui fantastico allora nel senso che ma tra l'altro sull'orario se io avrei 15 17 anche giovedì a te risulta diverso con mezz'ora di sfasamento eh in teoria giovedì era dalle era 16 30 18 30 ah ok va bene allora ignorate la slide dove c'è scritto invece che anche giovedì è dalle 15 le 17 perché sicuramente giusto quello che dici tu e il tema è della gestione del cambiamento sì poi c'è dentro quella parola lì gestione che è che è un po' è un po' pretenziosa nel senso che il cambiamento non è che si faccia proprio gestire così facilmente no ed è un tema che si collega molto con con questo dell'innovazione di questa serie di di incontri che adesso voi siete arrivati siamo arrivati a un certo numero non so quanti di voi hanno già partecipato ad altre iniziative io sono alessandro gianni mi presento brevemente per essere breve uso un disegnetto e di solito quando quando mi racconti dico che mi il mio mestiere è aiutare a ottenere risultati soprattutto nei momenti di cambiamento questo riguarda le persone i gruppi e le le aziende le organizzazioni da qualche parte io ho scritto ho fatto una promessa diciamo no che di di usare un linguaggio un linguaggio chiaro ed immediato perché 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 annoia di meno perché magari è più utile e quindi quello che cercherò di fare è questo ecco naturalmente mi perdonerete perché ogni tanto ma è un fatto che ha avuto un'infanzia difficile mi scapperà qualche parola in inglese come design thinking o coaching l'infanzia si riferisce al fatto che come dire se mi devo raccontare due secondi da ingegnere aeronautico c'è poi un momento di stacco in cui mi metto a pensare a come funzionano le organizzazioni guarda un po che coincidenza entro in un in un posto che si chiamava change manager service stiamo parlando dell'altro millennio stiamo parlando del dei primi anni 90 che sono un momento in cui su questi temi si è iniziato a prendere consapevolezza e poi e poi ho fatto il manager per per un periodo mi sono formato come coach e adesso faccio tutte queste belle cosucce da consulente formatore e diciamo progettista di percorsi di design thinking applicati non solo ai nuovi prodotti ai nuovi servizi ma a trovare soluzioni diciamo a problemi in generale diciamo anche interni anche miglioramento di processi anche nel creare un team fatti che funzionino meglio ecco ma basta parlare di me vorrei capire un po chi c'è chi c'è in ascolto e e quindi avrei mi sono fatto delle mie ipotesi e devo dire cioè quindi diciamo che immagino ma cosa fate voi nella vita voi voi che siete in ascolto in questo momento non so come mai vi siete iscritti a questo webinar magari perché è di moda a parlare di trasformazione digitale vi sentite anche voi coinvolti perché c'è il covid si lavora da remoto perché avete già avviato dei progetti di innovazione e magari ci siete in mezzo proprio adesso oppure ci state pensando e non riuscite a decidervi magari vi siete iscritti solo per curiosità diciamo che una cosa che immagino è che voi siate persone che si fanno questa domanda cioè in che modo il cambiamento innovativo è importante per me ecco poi magari siete degli imprenditori allora il cambiamento innovativo vi tocca personalmente e non può riguardare solo i vostri prodotti e servizi ma anche il modo di lavorare e di organizzarsi e anche il modo di rendere sostenibile il vostro lavoro da tutti i punti di vista quindi non solo quello finanziario ma anche organizzativo relazionale se siete dei manager o aspiranti tali allora probabilmente dovrete gestire continui cambiamenti sia nei prodotti nei servizi ma diciamo quelli che contribuite a pianificare diciamo vendere produrre o assistere dopo la vendita ma anche nella normativa nell'organizzazione nei processi di lavoro insomma e soprattutto nel come le persone stanno dentro a questo sistema e certamente il 2021 è stato il festival dei cambiamenti e diciamo che già da prima non era male ecco e andiamo incontro ad un periodo di assestamenti e di sviluppi imprevedibili quindi chi fa il manager sicuramente vale per tutti ma in particolare per chi gestisce dei pezzi di organizzazione e se siete degli specialisti e in qualche modo diciamo siete coinvolti su un'area specifica l'HR il controllo di gestione gli acquisti il marketing l'ingegneria insomma quello che l'IT naturalmente immagino che sia difficile eh esercitare il vostro ruolo senza avere a che fare con il cambiamento e l'innovazione eh come minimo eh a livello di tutti gli altri ma diciamo che eh negli ultimi mesi avrete dovuto ridefinire il vostro modo di lavorare e di coordinarvi e di relazionarvi con gli altri e ovviamente se siete dei dei professionisti più o meno liberi diciamo così eh fatto o fate parte di piccole organizzazioni è uguale eh come sopra diciamo cambiamento è continuo e e dappertutto e la digitalizzazione è perentoria perché anche adesso siamo qui collegati proprio attraverso una una piattaforma e con delle modalità di relazione che sono diverse da quelle che avremmo se fossimo in una in una sala riunioni in una sala di conferenze ehm chi chi non aveva fatto la trasformazione diciamo gli tocca farla adesso allora vi chiedo adesso un po' di collaborazione perché vi interpellerò un paio di volte durante queste due ore ehm anche perché ascoltare uno che parla tutto il tempo senza fare niente diventa anche eh difficile eh e vi chiedo di dire la vostra quindi useremo mentimeter eh vuol dire che ehm dovreste prendere il vostro smartphone o tablet non se state guidando per piacere eh e cercare su google www.menti come mentina mentire menti.com andate sul sito e tra un secondo vi dirò anche il codice lo attivo semplicemente scusate che deve passare in primo piano eccolo qui e deve anche funzionare eccolo qua allora la prima domanda che vi faccio quindi il codice da inserire è 23 54 95 8 quindi cercate www.menti.com sul sul vostro smartphone o anche sul pc e inserite il codice 23 54 95 8 eh una volta inserito vi verranno proposte queste queste alternative la domanda è questa rispetto ai cambiamenti innovativi che ruolo vi interessa avere qual è il ruolo che vi interessa maggiormente avere diciamo sceglietene almeno eh due ideare proporre organizzare supportare concludere valutare e poi ci sono quali nascosti che spariscono se io muovo il coso ecco qua vediamo un po ecco tolgo la telecamera probabilmente riuscite a vedere meglio c'è un bel assembramento su gestire che ovviamente raccoglie un po tutte le altre concludere nessuno vedo per il momento a uno ecco siete sentiti chiamati in causa forse vince gestire ma subito dopo vedo un bel proporre ideare pari merito con ideare abbastanza ben distribuiti organizzare diciotto quindi magari ci accontentiamo di queste 34 risposte che danno un po un'idea di quello che vi interessa stanno arrivando ancora alcune aspettiamo ancora un secondo bene quindi prevale organizzare sicuramente è anche il secondo posto ideare a parte gestire che appunto in generale seconda domanda che vi faccio se riesco ecco qua ruolo vostro ruolo nell'organizzazione ci sono varie possibilità imprenditore o siete proprietari magari di una piccola organizzazione magari di una un po più grande manager collaboratore consulente oppure magari siete qui anche se non avete un ruolo in un'organizzazione ovviamente uno può essere in una fase di transizione può essere uno studente può essere un curioso e quindi vediamo un po non mi stupisce che prevalgano prevale chi si definisce manager giustamente aspettiamo un attimo che il è una terza domanda però interessante comunque ci facciamo subito un'idea anche se non possiamo vederci non possiamo parlarci direttamente la chat è attiva vero Andrea penso di sì quindi se se volete potete potete utilizzarla anche mentre mentre io racconto le varie cose ecco direi che ci siamo fatti un'idea quindi 19 19 manager 12 collaboratori un po di altre persone sui 37 che hanno risposto ultima domanda provate a mettere in ordine i diciamo i vostro i ruoli possibili rispetto al cambiamento no quindi quindi vedete messi in quest'ordine ma poi voi lo potete cambiare vediamo come si orienta il gruppo il primo ruolo è essere quelli che propongono che hanno idee che devono che vogliono convincere gli altri che ci riescono un altro ruolo è quello di chi dà una mano lo sostiene no anche facendo cose concrete ancora diverso è di quelli che si rimbocca le mani che fanno tutto quello che è necessario per farlo succedere qualcuno potrebbe essere toccato marginalmente dai cambiamenti organizzativi e fornire essere più più un parere o dei contributi diciamo circoscritti ma magari in questo caso non tanti si sono iscritti a questo webinar e qualcuno potrebbe e non è detto che non sia una posizione saggia cercare di evitare il coinvolgimento in cambiamenti innovativi perché magari ci sono dei rischi di mezzo e quindi alcune volte bisogna fare per forza delle cose anche se vedi vedi remote working anche se magari non siamo del tutto convinti vince vincono quelli che danno una mano a promuovere il cambiamento direi almeno nel gruppo di quelli che sta rispondendo ma aspetto ancora un attimo perché visto che rispondete in 35 passa quindi magari non dipende da questo la vostra sopravvivenza anche se rispondete in maniera quindi potete anche rispondere un po di getto ma sicuramente un'idea ce la dà ok io direi che così penso che voi vediate per chi non dovesse vedere sta solo ascoltando l'audio ha vinto diciamo come come primo della lista il ruolo di chi dà una mano e promuove il cambiamento sostenendolo e anche facendo cose concrete poi a pari merito ci sono quelli che propongono idee per tirarsi dietro gli altri e quelli che si rimboccano le maniche quando gli danno diciamo o si prende il compito di far accadere le cose che è un po simile al primo ma insomma con una sfumatura un po diversa torno torno sul nostro poi queste cose le mettiamo anche nel pdf come ci siamo organizzati in due puntate oggi appunto gli orari non sono questi quelli questo è 16 16 30 18 30 giusto ops confermo però oggi 15 17 per giovedì 16 30 18 30 verificato anche sul molto bene allora oggi parliamo diciamo un po più della visione della visione del cambiamento che è rimasto dentro il titolo vecchio questo è veramente grave ma facciamo finta di niente parliamo più del cambiamento dal punto di vista del del contesto generale quindi la visione il cos'è la cultura del cambiamento la mentalità sono tutte cose molto concrete in realtà e e quindi del perché innovare cambiare poi vediamo che questo ha un motivo perché molti progetti di cambiamento non arrivano ai risultati che si desideravano proprio perché manca la spinta manca la forza di una visione potente che venga trasmessa in giro e poi vediamo come funziona il cambiamento e come questo si può portare in azienda quali sono un po le fasi con un piccolo framework che può essere molto utile che mostra il ciclo di vita del cambiamento la prossima volta invece parliamo delle trappole di cosa può andare storto e vi citerò anche qualche dato dell'osservatorio sul sul change management fatto dal social e dal politecnico di milano e e poi come rimediamo quali sono gli strumenti che permettono di di intraprendere un viaggio con un po più di diciamo di facilitarlo no e in particolare come è fatto uno strumento che è il piano di gestione del cambiamento che ha certe componenti molto specifici come specifiche come nel project management ci sono degli strumenti di supporto come il change plan il project plan che aiutano a evitare trappole errori si può fare qualcosa del genere anche in sul tema del cambiamento io però prima di tutto ho tre domandone che ho chiamato preliminari perché poi diciamo l'intervento che ho preparato è tagliato dal punto di vista di chi è alla guida dell'azienda o in un ruolo di supporto a chi guida e quindi diciamo se voi che ascoltate vi mettete nei panni di chi guida un'organizzazione ecco che queste tre domande che sto per farvi hanno hanno senso e a seconda di come rispondete a queste domande cambia tutto rispetto all'innovazione al cambiamento e quindi ecco quale tre domande quindi prima domanda che visione avete seconda domanda qual è il vostro atteggiamento verso i cambiamenti e il terzo e qual è la cultura del cambiamento della vostra organizzazione la prima domanda è che visione avete come vedete la vostra organizzazione o la vostra azienda nel futuro prossimo intendiamo 12 24 mesi per esempio dove volete arrivare perché chiaramente siamo in un momento particolare e chissà quanto dura non sa nessuno non si capisce ma insomma ci sarà un poi o comunque ci sarà un perdurare di determinate cose che diventano il poi diventa la nuova situazione con cui fare conti e lo stesso vale se siete un professionista dentro un'azienda o un consulente esterno anche qui qual è la vostra visione se l'azienda è vostra e magari siete nella fase in cui vorreste arrivare a ritirarvi lasciando qualcosa che possa andare avanti bene anche senza di voi ne conosco diversi magari avete dei figli che proseguiranno magari no che cambiamenti servono per arrivare a questo risultato per esempio oppure magari siete nella situazione in cui vorreste far crescere l'azienda fino a diventare autonoma perché voi volete potervi dedicare a un'altra impresa diversa oppure siete un professionista dentro un'azienda o un consulente non cambia molto il ragionamento della visione vale lo stesso anche voi avrete una visione di dove volete essere per esempio tra due anni o magari anche in cinque e voglio dire di solito le persone vogliono consolidarsi nel ruolo se stanno in un'organizzazione soprattutto ma anche da libero professionista consolidarsi nel ruolo magari crescere di responsabilità o di stipendio oppure perché appunto come me fa libero professionista avere un flusso stabile di clienti e diciamo una reputazione in crescita no allora siete in grado di spiegare chiaramente dove volete arrivare cosa desiderate davvero sapete essere convincenti questa è la prima domandona che vi faccio perché altrimenti se questo discorso non ce l'ho ben chiaro e voglio parlare di cambiamento innovativo e insomma corro dei grossi rischi no possa anche darmi molto da fare ma se la visione è scarsa si può dire può essere addirittura controproducente e allora quel punto è meglio star fermi ma insomma quindi due domandine 22 flash due pennellate su dove va il mondo magari ce le ce le concediamo io riparto da quando ero giovane e che erano gli anni 80 so che non vale per tutti ma nel nel mio caso sì allora a quei tempi a quei tempi il ragionamento era che le competenze che ho appreso mi serviranno per tutta la vita lavorativa punto e basta cioè ho studiato ingegneria e quindi so tutto quello che bisogna sapere bene la domanda è visto che sono arrivate tutte queste altre belle cosucce nel frattempo come qui vedete tre 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 etichette che sono quasi degli slogan ormai abusati in tutti i modi ma anche perché sono dei fenomeni in pieno movimento no e la domanda è quanti quindi l'internet of things piuttosto che il big data o la block chain quanti lavori diversi faranno i nostri figli nell'arco della loro vita lavorativa poi bisogna definire diverso però sicuramente c'è un tasso di cambiamento solo solo per il fatto che vivi e che stai dentro in un in un contesto sociale ci sono dei cambiamenti con cui ti devi confrontare no non solo ma dal punto di vista delle tecnologie ma anche dal punto di vista dei modelli organizzativi adesso parliamo moltissimo di 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 agile evidentemente no quindi è un passaggio nel modo di organizzarsi da un mondo fatto di cercare di predire controllare quello che succede per quello facevo all'inizio quella battuta su management change management management è un po presuntuoso come se si potesse gestire il cambiamento il cambiamento arriva e magari è più comodo e più utile non dico più riposante essere in grado di adattarsi di essere di avere tante celle indipendenti tanti gruppettini che sanno trovare la connessione con i gruppettini giusti invece che avere qualcuno che lo deve decidere centralmente che sanno trovare le priorità in quello che devono fare se hanno chiara la visione di insieme però chiaramente si vuole una visione torniamo al punto precedente no ecco questo questi sono modelli organizzativi che stanno che sono in movimento e che stanno arrivando poi magari la nostra realtà una realtà medio piccola dove come dire siamo ancora nella fase di consolidamento di un uno stile manageriale e quindi siamo nella pieno della cercare anzi magari non abbiamo nessuna predizione vorremmo avercela per poter avere delle pianificazioni dei piani delle cose da non si arriva diciamo di colpo allo stadio dell'agilità adattiva senza prima magari aver attraversato un momento di maggiore strutturazione ogni organizzazione ha un suo ciclo di vita e quindi anzi questo poi magari ne riparliamo tra un pochino poi ci sono i megatrends il cambiamento climatico qui vabbè facciamo la battuta sulla valtellina però sicuramente è un tema di cui tener conto in cui magari non non ci non ci colpisce proprio direttamente però adesso ora vediamo insomma l'altro trend quello delle megalopoli per esempio è in pieno in pieno svolgimento non ci pensiamo magari dal nostro punto di vista però questo ha influenza poi su come si muovono le cose certamente avvicinandoci un po quello che può essere il percepito nella vita di tutti i giorni ecco che sicuramente vediamo che le abitudini di consumo e il potere di scelta poi vero percepito ne possiamo parlare ma facciamo un altro webinar su questo argomento diciamo che le abitudini di consumo gli stili di vita sono in piena evoluzione a maggior ragione con il con i vari confinamenti e lockdown che ci stanno spingendo ancora di più in questa direzione quindi se era vero se era vero un annetto e mezzo fa questa cosa è ancora più vera adesso forse io lo spero lo auspico c'è anche un incremento diciamo delle persone che si rendono conto che avere scelta all'interno del mercato cioè solo in termini di consumi non è necessariamente il tipo di libertà più importante no e magari iniziano a dare peso o più peso anche ad altre cose quindi relazione con gli altri connessioni basate su valori comuni anche la vita spirituale questo è un tema che io vedo muoversi e spero si muova sempre di più perché compensa molte altre problemi che invece abbiamo e andiamo generando con il modello diciamo di vita e degli stili che che pratichiamo certamente avvicinandosi ancora di più ai temi delle organizzazioni di come funzionano ci sono dei cambiamenti dei modelli di business che stanno cambiando molto rapidamente cioè prendono piede i modelli di business cosiddetti subscription based cioè basati su un canone no un canone mensile annuale addirittura qui è precovido ovviamente nel mondo del del trasporto aereo civile volaris è un esempio una compagnia low cost messicana non so se esista ancora a questo punto che però per 20 dollari al mese vi dava un volo al mese per qualsiasi destinazione coperta non chiaramente per tutto il mondo ma in una certa zona messico stati uniti eccetera oppure i diciamo i modelli di business basati su piattaforme petto base del cioè in cui business viene dal facilitare gli scambi cioè voglio dire booking uber tutte queste robe qui sono basate sul fatto che c'è una piattaforma ci sono una serie di attori che scambiano cose su quella piattaforma sicuramente c'è un tema di non c'è qui non c'è la foto voglio dire ma di quella cosiddetta servitizzazione cioè io produco dei beni materiali non lo so delle pompe dei componenti eccetera o dei motori il classico esempio sono i motori d'aviazione ma non ti vendo il motore ti vendo il servizio ti vendo l'ora di volo del motore funzionante ti vendo il servizio di mobilità non ti vendo più la macchina no e quindi sicuramente scusate questo riguarda le sì diciamo anche la servitization oltre che le piattaforme no gli approcci omni channel quindi riuscire a seguire il cliente in tutte le fasi del suo viaggio a contatto con la mia azienda piccola grande che sia accompagnandolo dal luogo fisico al luogo online e andate a ritorno e sicuramente con un tema di velocità di scambio di connessione sempre sempre accesa e ubiqua quindi in tutti i posti e poi il tema dei dati queste tutte queste cose mischiate insieme cambiano moltissimo in modo di lavorare e di inventarsi le cose da fare quindi diciamo certamente produce cambiamenti innovativi produce cambiamenti del contesto in cui io mi muovo quindi anche se io continuo a fare il mio business come lo facevo prima in realtà non è proprio del tutto vero perché tutto intorno mi si muovono cose di questo genere e sti cambiamenti sono sempre più veloci e diciamo non non più soltanto per ridurre i costi ma proprio per digitalizzare in generale le organizzazioni introdurre nuovi servizi quindi uno slogan più scelta portata di click diversità degli stili di vita digitalizzazione montante ora ecco questa immagine ci fa riflettere un un attimino struzio falchetti nel senso che chiaramente qualche volta potrebbe essere rassicurante trovare pace nascondendo un po un po la testa no quando ci si domanda dove va il mondo viene voglia di farlo il problema che magari il falchetto riesce a vedere un po più in là e a prendere provvedimenti tanto per non far nomi ecco qui qualche logo neanche se fare commenti voi capite bene la differenza tra i loghi sulla sinistra e i loghi sulla destra a proposito di essersi accorti perché non è che uno fa lo struzzo magari per coscientemente magari è un punto cieco voglio dire kodak non so se ha valutato il l'avvento del delle fotocamere digitali del digitale nella fotografia no in modo in modo corretto so sicuramente che quelle pellicole che si vedevano prima nelle foto insieme blues brother negli anni 80 non se ne vedono più tante in giro e così anche per gli altri ma avvicinandoci ancora di più ci sono queste tecnologie che vedete qui la stampa la stampa 3d la robotica con quell'ottanta per cento di previsione di diciamo intervento nel rispondere robotica anche in senso di di chat bot di risposte automatiche clienti certamente un trend di carenza dei lavoratori qualificati che siano in grado di far funzionare tutte le altre cose che ci sono qui sul foglio e che si prevede che che sia come dire esplosivo nei prossimi anni e poi le altre cose insomma sono pressione per la sostenibilità sicuramente un trend anche questo del co design della social collaboration nel senso di fare le cose insieme per esempio ai clienti o insieme ai propri collaboratori parliamo di organizzazioni diciamo non piccolissime in cui magari appunto si si praticano delle modalità di lavoro più coinvolgenti e poi ovviamente c'è il signor kovid che è venuto gentilmente a trovarci e pare anche che ci si trovi bene e quindi staremo a vedere quindi completata questa carrellata velocissima di dei trend vi rifaccio la domanda che è sempre quella no che visione avete e come si collega questa visione alle cose che abbiamo visto magari il tema della megalopoli visto dal ticino o dal nord della lombardia è relativo però in due passaggi magari ci tocca anche a noi sicuramente se parliamo del mister kovid ci sta toccando tutti e sta pesantemente condizionando la vita delle persone e delle aziende dipende in che settore operate ovviamente ci sono settori che sono sono toccati in maniera più pesante degli altri ecco seconda domanda allora se parliamo di qui era un po per dare il contesto la seconda domanda è qual è il vostro atteggiamento verso i cambiamenti e diciamo nella vostra visione i cambiamenti come entrano no perché ci sono questi cambiamenti nel contesto in cui siamo tutti immersi e abbiamo ragionato un po in grande diciamo scendendo scendendo un po nel concreto ci sono i cambiamenti che riguardano le organizzazioni in cui agiamo tutti i giorni che magari rispondono cercando bene si capisce che stava stiamo anche siamo anche condizionati e risponde i cambiamenti che arrivano dal contesto e poi ci sono i cambiamenti che mi toccano personalmente come come professionista dentro in un'organizzazione che vuole dare un contributo che vuole avere un valore riconosciuto no quindi ecco partiamo da qui per per entrare un po in argomento per per portarvi un po dentro anche voi nel contesto del cosa si prova quando quando ci sono i cambiamenti qui vedete varie possibilità guardate la slide adesso ve la leggio non faccio il sondaggio ma perché come dire se siete in pista da qualche anno siete qualche anno di esperienza nel in ambito lavorativo organizzativo avrete sperimentato personalmente quasi tutti se non tutti questi cambiamenti però fateci mente locale vi è capitato di cambiare ruolo organizzativo si suppongo di sì a meno che non abbiate appena iniziato a lavorare no magari avete cambiato da attore di lavoro magari no conosco molte persone che hanno iniziato a lavorare in un in un posto e ci sono state bene e ci sono rimaste anche adesso magari è cambiato però l'ambiente di lavoro perché voi non avete cambiato da attore di lavoro ma altri sì e sono venuti da voi perché c'è stata una fusione un'acquisizione e questo cambia il contesto cambia anche le abitudini delle persone magari cambia anche i processi e l'organizzazione oppure sono cambiate le cose che fate oppure non sono cambiate le cose che fate ma state facendo le cose in una maniera diversa per esempio con maggiore coinvolgimento dei colleghi più gruppi di lavoro e prima oppure con una pianificazione più strutturata e prima non lo era quindi faccio le stesse cose ma non proprio sono cambiati i colleghi sono cambiati i capi i processi le procedure il sistema informatico e quelli cambiano anche come dire con una certa frequenza no cambia dalla cambiamento di windows che ti mette un aggiornamento maggiore ti cambia qualche comando che usi sempre o le applicazioni office che ogni tanto cambiano anche loro al sistema informativo al sistema gestionale o ai vari sistemi che utilizzo per il mio lavoro naturalmente il cambio di prodotti servizi potrebbe esservi capitato oppure potrebbe esservi capitato un cambio di scenario competitivo in questo momento credo che a qualcuno possa possa essere successo l'approccio al lavoro quindi concludo con questo che vuol dire la digitalizzazione delle attività la multicanalità e social network lo smart working chiaramente cambiano proprio anche il modo in cui io mi relaziono con tutto questo ecco qual è il vostro vettore di crocette ne avete tutte ve ne manca qualcuna come la vostra collezione di cambiamenti e soprattutto questi cambiamenti da che parte li avete visti li avete visti dalla parte di chi li doveva o li voleva organizzare facilitare fare perché ci vedeva un vantaggio o dalla parte di chi non aveva deciso lui o lei il cambiamento no e si è trovato a farci conti nessuno di noi ha deciso il cambiamento del covid però eccoci qua ok quindi da che parte state è un interessante domanda no che cambia un po le cose su qui c'è anche il proverbio cinese che non manca mai quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri altri mulini a vento mi sono permesso di aggiornare nel disegno il mulino a vento ma il senso rimane ed estremizzando un po queste sono le due le due possibilità ma poi come ci siamo detti prima ci sono delle sfumature importanti e anche intelligenti fra i due atteggiamenti estremi per esempio non sempre attendere di vedere come si muovono le cose un errore può anche essere un'ottima strategia se è fatto consapevolmente e non perché non sto vedendo qualcosa come lo struzzo di qualche slide fa il ecco il punto di vista del chiamiamolo il change maker no scegliamo di metterci da questo punto di vista e diciamo è colui o colei che fa che fa il cambiamento cioè che si prende la responsabilità di immaginare di ideare questo vi chiedevo prima per questo le da che cosa vi interessa di più no quindi chi chi trova l'idea chi progetta che organizza chi cerca di far funzionare chi guida chi facilita e tutte queste cose fanno parte di questo ruolo e qualche volta la spinta viene dall'alto molto spesso quindi il l'imprenditore sia io il direttore no a volte può anche venire dal basso perché magari c'è una persona nell'organizzazione un esperto che ha una visione di business oppure un responsabile operativo che è in ascolto che sente cosa dicono i clienti o cosa dicono gli agenti di vendita con cui ha a che fare e intuisce un movimento che non si vede dagli uffici centrali no ecco che che cosa lo caratterizza sicuramente un senso di urgenza e non usiamo a caso questa parola c'è una cosa che va agita una cosa che va fatta perché il cambiamento che lui vede ha come dire ha un senso perché ha visione ma nel senso proprio di vedere vede vede cosa vede i benefici del cambiamento cioè quando io ho capito che se invece di usare un computer normale usavo uno con la penna e potevo fare questo potrebbe da quel momento lì in poi avevo urgenza di avere un pc con con questo dispositivo perché è troppo più comodo vedo i benefici no oppure vedo dove si va a finire se continuo a rimanere come prima che certe cose non riesco a farle oppure in più magari vedo anche che come dire in tre mosse è una cosa che si può anche pensare di fare e vedo anche che c'è qualcuno che potrebbe aiutarmi o comunque vedo come potrei ricombinare le risorse attuali per arrivarci allora il change maker ha visione in questo senso vede tutte queste cose o almeno alcune di queste e questo lo mette in una posizione diversa da chiunque altro ed anche una responsabilità evidentemente e ultima domanda questa è una domandona e che riguarda la cultura del cambiamento della vostra organizzazione guardate che vale anche se siete in da soli o in due persone o in pochi comunque no diciamo le situazioni possono essere l'imprenditore l'ho chiamato one man band nel senso quello che decide tutto lui che è sempre lui è quello che arriva risolve i problemi apro al mattino chiude la sera ascolta tutti risolve i problemi eccetera eccetera potrebbe essere questa la vostra situazione oppure siete una famiglia di imprenditori con vari ruoli persone coinvolte oppure siete i classici due o tre soci no oppure un'azienda che ha superato una certa soglia di complessità e in qualche modo ha passata ad un approccio più manageriale magari da non molto oppure un'azienda consolidata dove ci sono metodologie strutturate che sono diventate parte delle abitudini no l'in il business process management il project management o altre cose di questo genere e se parliamo di cultura in generale cultura organizzativa è chiaro che ci possono essere diversi diversi stili di base che si collegano alla situazione in cui mi trovo dal punto di vista del della leadership diciamo così no quindi uno stile più autoritario che non è necessariamente una cosa una cosa negativa spesso il one man band che fa tutto da solo decide lui e magari non ha collaboratori in grado di essere autonomi e magari non li ha anche perché non li sviluppa perché c'è un circolo vizioso non si rende neanche conto di come il suo modo di fare fa sì che sia difficile che qualcuno si faccia sufficiente per poterlo poi aiutare su cose realmente importanti no e quindi qua in questo caso può essere che la cultura di quell'organizzazione sia un po' autoritaria o magari un po' qui come definita paternalistico clienterale clienterale clientelare che non vuol dire niente di illegale ma semplicemente basato sul fatto che se stai dalla mia parte avrai dei vantaggi io da una cosa a te tu dai una cosa a me eccetera eccetera combinazione di queste due io ne ho viste spesso di organizzazioni dove c'è questa 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 combinazione imprenditore one man band e questi questi due stili combinati oppure potrebbe essere una situazione che riguarda anche una famiglia imprenditoriale anche se magari qui a seconda degli equilibri familiari può subentrare una tendenza una gestione diciamo più politica che a volte sfocia nel dare regole allora magari se prendiamo dal punto di vista sbagliato può essere che diventi si all'inizio una certa formalizzazione che è utile ma poi che diventi un po pesante un po burocratica l'azienda managerializzata da poco magari va verso una cultura più tecnocratica cioè in cui comandano i tecnici all'insegno dell'efficacia dell'efficienza degli obiettivi da raggiungere eccetera piuttosto che diciamo questo anche nell'azienda consolidata insomma ci sono tante combinazioni se parliamo di cultura e se parliamo di cultura del cambiamento diciamo cultura in generale del cambiamento in particolare da cosa è fatta giusto per darci una definizione fatta da tutte queste cose che vedete elencate qui i valori e presupposti di base che sono espliciti perché siamo qui cosa importante ce lo diciamo lo scriviamo sul sito e condiviso no i criteri comunemente accettati questo può essere diciamo per esempio molte organizzazioni magari nate da un'idea tecnica una buona idea tecnica che ha portato a sviluppare un prodotto di successo insomma la cultura di base è una cultura che dà peso all'aspetto tecnico e magari un po meno all'aspetto di attenzione al cliente oppure viceversa un'azienda tutta tutta sul cliente e pochissimo sulla parte tecnica che quindi poi magari ha delle cadute ecco questo è un tema anche di cultura proprio di criteri comunemente accettati quando sono lì che devo decidere prevale una cosa rispetto all'altra poi c'è la parte sommersa le convinzioni impliciti implicite le abitudini automatismi copioni le regole tacite quindi quello che non si dice si dà per scontato e nessuno farebbe mai una cosa diversa ma non sa neanche dire perché non lo discuti neanche i linguaggi miti le leggende eccetera tutto questo fa parte della cultura aziendale magari qualcuno di voi potrebbe anche dire vabbè ma è una roba molto astratta ma in realtà se poi pensate a un esempio con tutte le volte che sentite parlare vi viene da parlare di mentalità delle persone a questa cosa qui non si può fare perché non c'è la mentalità no per esempio per iniziare a pianificare la produzione diciamo in modo più strutturato più moderno le persone dovrebbero cambiare mentalità impostazione perché se come sono adesso non funziona ecco quando trovate quella roba lì state avendo a che fare con un tema di cultura organizzativa ecco e l'altro tema ovviamente che la cultura il terreno nel quale crescono le idee quindi se parliamo di cambiamenti innovativi questi cambiamenti innovativi o l'impianto in un terreno povero diciamo dei nutrienti che servono e mi appassiscono se non muoiono proprio secchi no vedi smart working vedi alla voce smart working che però attenzione facciamo la differenza dal lavoro forzato da remoto che non è per niente smart no smart vuol dire che è flessibile di tempo di luogo di strumenti di configurazioni di gruppi diciamo quindi e non esclude al fatto il lavoro in presenza quindi adesso si può praticare un po pochino in certe situazioni perché smart è sto insieme a te in presenza se devo fare un lavoro in cui il valore aggiunto c'è in quella configurazione e me ne sto chiuso nella mia stanzetta casa mia comoda se quello il posto migliore dove fare una pensata se ho due figli piccoli non è quello il posto migliore allora smart stare da un'altra parte dove ci siamo capiti no questo può essere una re una leva importante per rendere flessibili i modi lavorare ma naturalmente implica organizzare il lavoro in modo completamente diverso basato su presupposti diversi per esempio di lavorare per obiettivi su delega ma delega di cosa se io non sono capace di di dire bene qual è l'oggetto che ti consegnerò e con qualche qualità deve avere quindi la cultura aziendale per esempio basata sul vedere le persone kine sul sulla scrivania sul computer altrimenti mi sembra che non stiano lavorando vi precludono la possibilità di sperimentare e di imparare come potrebbe essere uno smart working veramente efficace per dire come la cultura può influenzare pesantemente ciò che si può e si riesce a fare oppure no allora se vogliamo darci una definizione già quasi fatto la prima oretta di questo percorso una definizione siamo ancora le domande preliminari non so se avete notato cosa definisce una cultura del cambiamento io ho provato a mettere giù alcune cose che insomma che mi sembra mi sembra di vedere che funzionano e poi naturalmente cosa potrebbe esserci nel mix diciamo che ovviamente non ci sono ricette se qualcuno ve ne dai o sarei un po diffidente perché è un tema troppo complesso dipende dipende da molti fattori chi c'è chi sono le persone qual è la storia di quell'organizzazione qual è il territorio dove dove opera troppe cose però sicuramente queste queste cinque mi viene da mettergli un po di attenzione quindi una è la cultura dell'errore che è un bello slogan sentito da tanti anni mi ha detto lavorato anche in grosse aziende eccetera tutti a parlare di cultura dell'errore salvo poi quando facevi un errore bisogna può vedere quindi parlarne è facile praticarla richiede veramente un allenamento notevole perché la cultura dell'errore la vedo quando quando qualcuno fa un errore no e allora diventa davvero l'occasione di imparare qualcosa e non di giudicare qualcun altro oppure non ce la facciamo però chiaramente le persone capì vedono qual è l'andazzo e si regolano di conseguenza quindi basta veramente poco per dare il segnale diciamo che la cultura dell'errore solo uno slogan e non è una cosa sostanziale ci sono organizzazioni dove invece è possibile diciamo fare esperimenti perché chiaro no cosa mi serve la cultura dell'errore mi permette di fare esperimenti con più facilità e se io sperimento poi magari nesce qualcosa se non faccio l'esperimento vado sul sicuro cioè sono sicuro che non esce niente di nuovo e un'altra va a braccetto con la 2 che l'apertura alla creatività alle persone e alle cose diverse quindi questo aggeggio non l'ho mai provato questo software non l'ho mai usato eccetera lo provo è il contrario del si è sempre fatto così che diventa diciamo se lo devo trasformare in una frase diventa wow che bello un'altra cosa nuova da provare che è facile da dire quando la cosa nuova mi arriva il momento che ho tempo che sono tranquillo eccetera e invece quello che è difficile imparare a farlo o che diventi pratica comune abbiamo detto la cultura è anche l'insieme delle abitudini che le persone hanno gli automatismi che quando arriva una cosa nuova tutti in qualche modo sono coinvolti diceva bene ho tante cose da fare ma se non sperimento starò sempre fermo qui quindi non ho bisogno di essere motivato sono io che sono motivato internamente perché so che la diciamo la sperimentazione di cose nuove e lo stesso vale per le persone arriva una persona nuova con idee diverse da un ambiente completamente diverso e invece di essere occasione di fastidio è un'occasione di esercitare la curiosità ripeto facile quando ho tempo e non sono sotto pressione un pochino più difficile quando c'è pressione terzo punto non mi attacco le idee quindi è sempre collegato ovviamente faccio prototipi li provo se funzionano bene con solido se non funziona provo qualcos'altro ma con molta nonchalance disinvoltura quindi io immagino voi vi state domandando cioè l'idea sarebbe io vi dico queste cose e voi vi domandate com'è da me è così l'uno il due il tre il quattro metodo no diciamo i metodi perché cosa sono qual è l'utilità dei metodi che permettono di condividere più facilmente un modo di lavorare e di riutilizzare i pezzi no sistematizzando tutto no in modo facile eccetera questo buon modo di lavorare però mi devo tenere anche più flessibile possibile altrimenti dentro schiavo del mio metodo della metodologia no quindi sto attento a questo in modo da dire io lo cambio tutte le volte che serve e al limite non ho nessun metodo e va bene anche così allora allora diventa un pezzo di cultura che aiuta il cambiamento in modo in modo facile la cultura che è nemica del metodo diciamo per definizione non ti aiuta perché poi non riesci appunto devi rifare tutto da capo tutte le volte non puoi trasferire le competenze è molto complicato e infatti l'ultimo punto che 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 citerei è la squadra e le persone che è la parte più difficile perché vuol dire esercitare questa specie di strabismo in cui io vedo la squadra quello che sa fare nell'insieme dei suoi componenti però vedo anche le persone e ne riconosco i contributi e quindi non o l'uno o l'altro ma riesco a fare con equilibrio sono un bravo allenatore della squadra no un bravo componente della squadra e riesco a fare a praticare queste due arti contemporaneamente allora tutta questa roba insieme è una bella base se se la vedete come un cose che vengono ampiamente praticate in un'organizzazione sia essa piccola di tre persone o di 3000 ti danno una base importante però magari voi avete in mente delle altre cose se avete voglia di scriverle sulla chat non so se poi andrea può intervenire e magari dire se è saltato fuori qualcosa nel caso io intanto vado avanti e quindi come dire la domandona importante è sulla terza domanda preliminare importante quella sulla mentalità sulla cultura è che cultura del cambiamento c'è nella vostra organizzazione o nelle organizzazioni dei vostri clienti se come me lavorate per conto di altre organizzazioni e poi soprattutto questa cultura ce l'avete solo voi o è diffusa no e che cosa manca ammesso che quello sia il target o se no per il target che voi vi date cosa manca per averla pienamente e su quali risorse potete contare su potete sulle quali risorse potete fare leva ecco indovinate un po c'è un altro piccolo sondaggio vediamo se vi ho fatti scappare tutti o siete rimasti e torno di qua con grande baldanza scusate un attimo eccoci qui vado qui avvio di lì e la domanda è pensando alla vostra organizzazione scusate il codice è cambiato e dovete rifare www.menti.com e inserire un nuovo codice perché è un altro sondaggio e il codice è 68 91 57 5 inserite il codice trovate questa domanda che dice pensando alla vostra organizzazione quanto è presente secondo voi una cultura del cambiamento innovativo molto poco moltissimo pochissimo notare gli esperti sondaggi notano che non c'è la via di mezzo e quindi dovete prendere una posizione 68 91 57 5 stiamo giocando alla gaussiana direi più o meno se risale un altro po il poco siamo invece no c'è molto che forse siete un pubblico preselezionato mi potete dire molto bene lascio ancora un attimo vedo prevale un molto con 13 risposte poi poco otto e due estremi con moltissimo da una parte e due pochissimo dall'altro seconda domanda no la seconda domanda richiede un supplemento di di slide che adesso la troviamo eccola qua la seconda domanda scusate eccolo qua richiede un supplemento di slide perché la domanda riguarda gli atteggiamenti verso il cambiamento innovativo quali atteggiamenti verso il cambiamento innovativo sono presenti nella vostra organizzazione ne ho osservati spesso 4 ma poi ripeto magari il mondo è bello perché vario magari ce ne sono altri 27 io ho incontrato spesso questi uno è questo che ho chiamato abbiamo altro da fare e cioè la maggior parte delle persone compresi manager e compresa la proprietà è presa dalla gestione corrente e dai problemi pratici quindi non c'è tempo per pensare le novità diciamo vengono viste come distrazioni a meno che ovviamente non abbiano un vantaggio immediato e concreto se c'è un incendio e ti porto un nuovo estintore tendenzialmente lo provi subito no però diciamo che deve esserci proprio un'evidenza ne conosco diverse non faccio nomi e cognomi ma voglio dire dove qualunque cosa ma è compreso in certi periodi della mia vita no hai altro da fare e quindi le novità per favore le rimandiamo ok un secondo atteggiamento che vedo molto diffuso è quello molto saggio che si fa l'innovazione ma con cautela quindi alcune persone diciamo dedicano tempo e energie a sperimentare nuovi modi di lavorare nuove tecnologie nuove modalità di relazione con gli altri attenzione non sto parlando solo di tecnologia è anche sperimentare la jail come modalità di lavoro o un'altra metodologia di coinvolgimento delle persone design thinking è un esperimento relazionale non è metodologico relazionale non è non c'è nessuna tecnologia particolare di mezzo ok e qui il cambiamento quando arriva dall'esterno ad esempio un nuovo collega con esperienze molto diverse da diciamo un cambiamento della nuova tecnologia viene accolto con curiosità esplorato per capire come muoversi però diciamo c'è l'elmettino no c'ho il caschetto e sto attento è assolutamente rispettabile come posizione un altro filone un'altra situazione tipica è quella in cui diciamo con meno enfasi sulla cautela si va a innovare però sul corso sul prodotto sul sul cuore di quello che faccio quindi dove c'è una ricerca attiva delle novità che riguarda dei prodotti servizi e sperimentazione siamo veloci noi le proviamo le tecnologie nuove le proviamo a integrare le portiamo ai clienti vediamo siamo all'avanguardia ok e questo coinvolge la proprietà i manager le persone operative e un po tutti i reparti questo è un terzo posizionamento l'ultimo posizionamento è quello dell'innovazione a tutto campo quindi non solo di prodotto ma anche di processo e di organizzativa quindi cerchiamo le novità le cose da sperimentare la maggior parte delle persone ha un atteggiamento positivo di fronte alle nuove cose da provare è ovviamente quello che c'è questo atteggiamento delle persone positiva dipende moltissimo da quali sono le vicende che sono accadute prima quali sono le storie se queste persone possono fidarsi del contesto e di quell'organizzazione oppure no allora l'entusiasmo ovviamente sale diciamo tutti andrà fare no non passiamo la vita a fare esperimenti però quando qualcuno vede che ci sarebbe un cambiamento utile trova trova un ambiente accogliente per questo cambiamento ascolto supporto ai vari livelli e i manager sono particolarmente bravi a far sentire le persone che quando fanno così cioè cercano qualcosa di nuovo e lo sperimentano stanno proprio facendo un buon lavoro sono bravi perché ci vuole una certa proprio perché bisogna tollerare una certa incertezza tollerare qualche errore eccetera eccetera allora se questo è il punto vi chiedo di posizionarvi con un meccanismo adesso vi metto il sondaggio in cui distribuite il 100% su queste diciamo quattro possibilità è un po forzoso perché sono solo queste quattro possibilità vedo che avete già risposto fantastico attenzione 9 sta arrivando le risposte il numero da inserire se qualcuno deve rientrare in mentimiter è 68 91 57 5 per ora su diciamo su 10 su 11 risposte c'è un 40 per cento su innovazione ok ma con cautela e gli altri più o meno sul 20 per cento aspettiamo attendiamo ancora un attimo devo dire sono molto interessanti questi sondaggetti con voi che siete presenti e quindi abbiamo a che fare con un pubblico di persone come dire piuttosto sagge perché diciamo innovazione ok ma ma con cautela c'è anche un 20 per cento 23 per cento insomma qua un quarto sei o sette persone tra quelli che ha il risposto che sono nella situazione abbiamo altro da fare siamo sotto un treno non 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 ce la possiamo fare a digerire altre novità ci avete già fatto digerire tante novità in quest'ultimo anno e siamo un po' stanchini come diceva forrest gump a un certo punto nel film allora il quadro mi sembra chiaro e torno a sintonizzarmi di qua quindi ricapitolando questa parte delle tre domandone preliminari che visione avete e abbiamo fatto un po di escursus e cercato e questa è una domanda a cui io non posso rispondere no per tutti ma è la prima domanda da farsi in un processo di cambiamento innovativo è un passaggio ineludibile se vogliamo dire anche un po di metodo io vi ho fatto queste domande per fare un ragionamento con voi ma queste tre domande sono anche tre passaggi fondamentali quando io mi trovo in un processo in un ciclo di cambiamento e voglio guidarlo da change maker quindi l'atteggiamento il vostro e quello ma il con personale è un conto e quello delle vostre persone delle persone che collaborano con voi che atteggiamento hanno quanti cambiamenti hanno visto come li hanno presi come li hanno vissuti e poi che cultura c'è per questa importantissima perché come dire la visione mi può anche venire in una notte in due giorni faccio questi due seminari o altri tre e nel giro di due settimane o una nuova visione ma per cambiare la cultura di un'organizzazione anche solo di una persona ma di un'organizzazione anche solo di tre o quattro persone figurati se sono di più e non è una roba che si fa nel weekend no bisogna tenere la barra per un periodo lungo e avere una visione veramente potente quindi una cosa si collega con l'altra bene allora perché cambiare innovare imparare è vitale vitale vuol dire che da la vita che è mi mantiene in vita quindi non è una roba da poco così che dice vitaluccio è un po vitale un po sì un po no cioè vitale o non è vitale ecco la tesi è che cambiare innovare imparare è una roba senza la quale come organizzazioni moriamo ma moriamo anche come persone ci spegniamo completamente e quindi diciamo quali cambiamenti vogliamo gestire è la prima vera domanda no che aveva bisogno delle altre tre diciamo preliminari no il tema qui è la gestione del cambiamento e quindi prima di pensare di gestire qualcosa ammesso che ciò sia possibile vediamo di capire quali cambiamenti vogliamo gestire per esempio qui ce ne sono alcuni ma chissà quelli che avete in mente voi l'internazionalizzazione benissimo la managerializzazione perdonate la parolaccia quindi cosa vuol dire portare metodi portare sistemi di misura portare sistemi di presa delle decisioni razionali no portare la capacità di robustezza organizzativa per cui le persone non sono così sostituibili perché il know how viene in qualche modo condiviso eccetera gestire i gruppi far crescere questa è la managerializzazione che quindi come dire può essere declinata in mille progetti diversi il cambio generazionale quando in un'azienda c'è la successione tra una generazione e l'altra che porta quindi magari porta anche al cambio di questo tipo qui o a questo cambiamento di questo tipo qui sono tutti collegati ovviamente la trasformazione digitale fatta più verso l'interno perché obbligato dal covid ho iniziato a sperimentare modalità di lavoro diverse di collaborazione attraverso le piattaforme c'è chi usa microsoft teams per fare le video call e basta che è un po' come sedersi sul sedile dietro dell'auto a leggere un libro invece senza sapere che puoi anche guidarla andare in giro e chi invece ha cavalcato questa cosa e ha cambiato almeno i processi interni magari anche quelli esterni no oppure miglioramento classico miglioramento dei processi fatto magari attraverso una reingegnerizzazione un po un po un po ingente diciamo non piccolissimi cambiamenti oppure me non ce l'ho o magari la classica situazione di sistemi informativi frammentati e decido di mettere un gestionale di supporto altre evoluzioni tecnologiche questi sono i cambiamenti a cui facciamo riferimento e se ci pensate tutti questi cambiamenti hanno come dire delle specificità no perché è chiaro che un cambio generazionale richiede di entrare nelle dinamiche familiari e anche psicologiche in misura maggiore di un miglioramento di processi per quanto questo sia rivoluzionario no è un conto è cambiare il sistema informativo che può avere risvolti di processo sulle competenze delle persone ma rispetto magari a un cambio di trasformazione del modo di ragionare dei manager dei capi intermedi no ecco quindi sicuramente ci sono delle differenze ma ci sono anche delle cose che hanno in comune i vari tipi di cambiamento e io di quelle vorrei parlarvi adesso nel senso che una cosa che hanno in comune è che tutti i cambiamenti comportano qualcosa di nuovo che è una banalità se no che cos'è che cambio allora qualcosa di nuovo vuol dire innovazione anche piccola anche omeopatica una piccola dose di innovazione no questa innovazione viene fuori se c'è creatività o comunque presuppone creatività per accoglierla per adattare il sistema no tanta o poca che sia non è che dobbiamo sempre andare su marte o inventare un transistor no magari inizio a usare che ne so trello per pianificare le attività non sarà mica la rivoluzione però un cambiamento innovativo e diciamo che questi cambiamenti devono anche produrre un risultato concreto una performance altrimenti il giochino prosegue per poco no se non esce niente da questi da queste sperimentazioni e da questi cambiamenti quindi e naturalmente per fare questo io devo imparare cose nuove anche fosse solo i bottoni di trello succitato trello è un applicativo è una web app che potete usare per pianificare e quindi se pensate ai cambiamenti di cui stavamo parlando prima questa è sicuramente una cosa che hanno in comune l'altra cosa che hanno in comune i cambiamenti è che in particolare quelli che portano a qualche risultato apprezzabile è che non funzionano se manca una di queste tre cose cioè io come dire per ottenere un risultato una performance una prestazione di qualunque tipo anche non nel cambiamento ma maggior ragione se c'è un cambiamento ho bisogno che ci siano dei processi dei sistemi quindi la parte verde ma poi ho bisogno che le persone sappiano come fare le cose e soprattutto che abbiano un motivo ma se io sono motivato e non ho le conoscenze non vado da nessuna parte se io sono motivato le conoscenze ma non ho i sistemi per farlo non ho i processi non ho un contesto adeguato non vado da nessuna parte non esce il il risultato allora vedere questa correlazione vedere che come dire io mi trovo spesso clienti che mi dicono che diciamo visto che hanno già speso parecchio per il nuovo sistema informativo faccio un esempio proprio banalotto no adesso spendere altri 5 mila euro per andare a cambiare quello che c'è nella testa delle persone sono troppi no ma non si può fare di meno facciamo la metà facciamo che non lo facciamo ecco chiaramente questa è una visione che che porta delle conseguenze anche questa cultura del cambiamento cioè vedere l'azienda dell'azienda l'organizzazione e le persone che ci stanno dentro in una visione sistemica come questa qui bene allora abbiamo portato a casa un primo pezzo abbiamo ancora una quarantina di minuti come funziona il cambiamento vogliamo entrarci dentro le organizzazioni sono fatte di processi di persone poi c'è tutto il resto ma insomma se non avete delle attività che producano un risultato di valore che sia apprezzato dai tuoi clienti eccetera e non hai le persone che fanno queste attività non c'è l'organizzazione anche se non lo sanno le organizzazioni sono fatte di processi di persone orbene quindi qualunque cambiamento innovativo passa diciamo da queste due componenti processi e persone ma in realtà io posso guardare e qui vedete diciamo le dimensioni che possono essere coinvolte in un cambiamento ne ho identificate 10 anche qui non non faccio riferimenti di letteratura è questa diciamo è distillato dall'esperienza mia e degli altri come dire degli altri soci e compagni di viaggio che che ho incontrato in questi anni però insomma vi chiedo di considerarla e di valutare se manca qualcosa di farmelo sapere sarebbe sarebbe un bel regalo c'è la mia mail su tutte le slide quindi potete scrivermi quando vado a toccare uno qualsiasi di queste dimensioni probabilmente può capitare che vado a toccare chirurgicamente solo una di queste ma più probabilmente ne andrò a toccare alcune altre faccio un esempio miglioramento di un processo partiamo dall'inizio quindi io vado a togliere delle attività che sono duplicate a cambiare chi fa che cosa in un'altra attività eccetera beh probabilmente se se non è un cambiamento proprio minimo potrebbe andare a toccare qualcosa sulla dimensione dell'organizzazione perché quello che prima era responsabile di una persona che faceva 18 cose dopo responsabile di una persona che ne fa solo 15 è un altro che ha acquisito un pezzo magari queste persone non aveva per fare le nuove attività devono avere nuove competenze quindi cambia lo skill set le competenze le conoscenze e magari se fosse per esempio un cambiamento di un processo che ne so mi viene in mente quando nei call center abbiamo dato la possibilità all'operatore di dare un piccolo rimborso direttamente lui senza chiedere al supervisor al cliente chiaro che ci saranno delle procedure da imparare questo skill set ci sarà un tema organizzativo per dire chi è responsabile di cosa questa organizzazione dovrò avere dei processi dovrò avere un sistema informatico adeguato ma soprattutto la diciamo mentalità il modo di ragionare del mio del mio operatore del call center deve essere allineato in particolare qualcuno aveva un po paura di sbilanciarsi a dare questi 10 euro di rimborso cose di questo genere ok per fare un esempio ma poi pensate ai vostri casi e se volete la parte cultura ed è l'insieme di queste due cose qui del mindset e dei comportamenti che poi sono il modo in cui le cose si si mettono in pratica ma può anche cambiare il layout fisico ecco in generale quando voi guardate un cambiamento pensate alle implicazioni sulle varie dimensioni e quindi all'impronta di questo cambiamento se lo vogliamo rappresentare qui vado molto veloce perché sono cose molto semplici un po come si fa anche nel six sigma o nel lean io ho uno stato corrente uno stato futuro no current state e future state e ho una transizione quindi se voglio fare un cambiamento ecco cosa come mi attrezzo mi attrezzo con magari da una parte un progetto che è proprio quello che realizza tutte le attività che mi portano dallo stato corrente lo stato futuro e dall'altro ci metto però un lo affianco con una componente con un altro pezzo di di attività che si va a occupare di facilitare il cambiamento proprio dal punto di vista del delle persone del del dell'ingaggio delle persone del coinvolgimento del loro entusiasmo o perlomeno del loro non non essere diciamo in diretta opposizione questa cosa ha diciamo un vantaggio molto chiaro nel risparmio di tempo di soldi di energie e di rischi che mi permette di di fare no perché perché quando avviene un cambiamento che cosa succede la faccio molto con questa versione stilizzata radice quadrata succede questo mettiamo sulle ordinate quello che interessa a voi la produttività perché state inserendo una nuova macchina sulla vostra linea di produzione e questa nuova macchina permette una maggiore produttività una volta che l'avrò installata che avrò imparato a regolarla che avrò imparato a fare i cambi i cambi diciamo sulla macchina velocemente una volta che avrò imparato a non tenerla perché il primo momento che la metto in servizio magari la produttività invece di aumentare cioè il sogno di tutti sarebbe che questa curva facesse così no non c'è nessuna scossone nessun contraccolpo se vi riesce nella la ciambella col buco avete tutto il mio rispetto e per carità non è detto che non succeda non è nemmeno detto che ci debba essere un una valle così pronunciata no adesso qui è un po amplificata per renderla visibile quindi qui se mettiamo la produttività qui cosa succede che io voglio fare un cambiamento per avere il massimo di aumento di questa produttività ma che il giorno che giro la chiave in realtà la mia produttività inizia a scendere come minimo inizia a scendere perché le persone devono imparare qualcosa di nuovo e finché non si impratichiscono è difficile che risalga ma 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 possono succedere anche delle altre cose e quindi qui entriamo eventualmente mio obiettivo è rendere minima questa profondità e minima la larghezza del fossato in modo che in poco tempo io arrivo nel mio posto desiderato che è diciamo che è qua dove dove lo scalino è stato fatto e tutto funziona liscio come l'olio ecco quindi qui partendo da una prospettiva individuale ritornando al nostro schemino dei vari tipi di cambiamento se pensate a voi quando avete avuto un cambiamento di quelli potenti cosa vi è successo no fatte mente locale come vi sentivate all'inizio che atteggiamento ed energia avevate quando vi siete accorti che il peggio era passato che si poteva non parliamo di cambiamenti di poco conto cambiamenti un po seri no ecco è probabile che quello che vi è successo sia quello che succede a tutti nei momenti di cambiamento ora qui questa curva diciamo è la versione un pochino più articolata e fumettistica della radice quadrata di prima che poi alla fine viene dagli studi di una psichiatra che si chiamava kubler ross elisabeth kubler ross che studiava il lutto delle persone ma insomma adattato all'ambiente aziendale è un po quello che 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 potreste trovare aver sperimentato anche voi no quindi all'inizio uno dice no non ci credo non è possibile non doveva succedere a me in qualche modo mi arrabbio prima mi do la colpa mi spavento poi dormi mi arrabbio con chi ritengo il responsabile di questa cosa poi magari mi deprimo mi deprimo molto a un certo punto inizio a farci conti ma guardate questa cosa può succedere in maniera qui è un po estremizzata anche per farvi un po sorridere ma può succedere in maniera blanda ma comunque mi allunga i tempi in cui io arrivo all'integrazione finale a parte poi le deviazioni tipo quello che dice io faccio finta di nulla quello che si entusiasma tantissimo pensando ai benefici ma non ha tanto valutato che per esempio con lo smart working adesso spariscono le scrivanie personali e quindi come dire il mio pupazzetto col puffo non ho più un posto dove metterlo e ci ero tanto affezionato all'inizio mi ero entusiasmato quando la policy del clean desk entra in vigore scopro com'è e magari percorro un pezzo di questa curva qui qualcuno non ne esce più qualcuno ne esce e abbandona e non è detto che abbia torto e magari il nuovo la nuova situazione non fa per lui o per lei no qualcuno rimane invischiato entra in uno stato di lamentela perenne e di non accettazione che non fa bene né né a chi lo pratica né all'organizzazione in cui in cui queste persone vivono non è una roba strana perché come dire ci abbiamo il cervello il modello che abbiamo montato è un po sempre quello di della savana quello di tanto tempo fa quindi apprezza la prevedibilità perché vuol dire sicurezza cerca di usare le scorciatoie quindi le automatismi le abitudini cerca l'inclusione sociale perché l'esclusione è vista come un pericolo sto parlando della parte automatica del cervello non di quella con cui facciamo i ragionamenti che va più lenta sto parlando della parte veloce che è quella che sta più all'interno del cervello e che come dire è anche legata alle emozioni quindi gli piacciono i cambiamenti graduali ma certo non troppo stabilità un po di novità per non annoiarsi e quindi i cambiamenti repentini massicci di abitudini di contesto di piani di programmi non non provo se vi se se mi sentite un po a disagio è normale dipende che sia fatti così ok poi uno prende coscienza studia la curva ci ragiona sopra e dice ok so che reagisco così ma posso anche reagire in maniera di tre differente infatti mi metto in una prospettiva organizzativa quindi quando siamo noi a cercare il cambiamento no perché perché ne abbiamo visti i vantaggi no quindi per esempio qui diciamo facciamo questo campo di forza vedete l'offerta la domanda tutte queste cose messe insieme mi tengono in una certa posizione metti che mi cambi la legge è per esempio arriva un bel dpcm un bel decreto che chiude tutto no boom chiaramente mi sposta il mio equilibrio no questo è un po un modo di ragionare su sulle organizzazioni e se tu adesso questo è un esempio ma magari il lo spostamento tu lo vuoi ottenere perché vuoi portare delle idee nuove no che magari hanno a che fare con la domanda che è evoluta o con le abitudini di vita che stanno cambiando l'abbiamo visto prima e quindi ti sforzi di spingere questo muro perché si sposti un pochettino e può essere frustrante quindi volevo far vedere un'altra curva importante è questa qui è la solita vignetta che ho messo anch'io no di quello con la ruota tonda che la propone a quelli con la ruota cavata che però appunto ricadono nel caso numero uno ho troppo da fare siamo troppo occupati per fare esperimenti ecco riguardo all'introduzione delle novità in un sistema è un po come l'introduzione di una novità su un mercato diciamo così che però è anche la stessa curva questa gialla della crescita di una popolazione in un in una nicchia ecologica sostanzialmente si arriva a saturazione in modo asintotico no quindi parto piano piano poi porto a bordo diciamo la popolazione cresce e arriva a saturazione qui invece stiamo parlando di un cambiamento che sto introducendo no e cosa succede succede che le percentuali adesso non so quanto basarci ma qui adesso siamo in ascolto mettiamo che abbiamo 100 persone nella nostra organizzazione un paio di persone saltano a bordo qualunque roba nuova trova almeno un paio di persone che quella roba lì le entusiasma e anzi magari te l'hanno portata loro sono innovatori ok e un altro 13 persone quindi un totale di 15 early adopters quindi diciamo persone pionieri pragmatici apripista chiamateli come volete sti qua vengono vengono un po più facilmente ma naturalmente devo arrivarci perché non è che arrivano tutti di colpo eccetera e qui c'è il burrone no dove rischia di cascare l'innovazione e rischia di calcare il cambiamento innovativo cioè se io non raggiungo la massa critica cioè inizio ad attaccare attaccare non mi piace ma diciamo a coinvolgere a convincere un pezzo della maggioranza cosiddetta precoce cioè quella più orientata al cambiamento ma pur sempre maggioranza nel senso di qualcuno che vi è indietro quando quando la cosa ha superato diciamo certi meccanismi e allora come dire senza senza questi non riesco a portarmi a casa gli altri la maggioranza tardiva poi diciamo che di questi potrei gli ultimi gli ultimi 10 15 non dedicherei tutte le energie per portarli a casa perché potrebbe essere difficile quando affronto un cambiamento invece di provare frustrazione diciamo così potrebbe essere utile fare questo ragionamento e dire ok su chi voglio lavorare su quale qual è la popolazione un po su questi perché se me ne porta a casa abbastanza supero questo burrone precipizio ma soprattutto poi voglio lavorare su questi sulla maggioranza precoce su quelli un po favorevoli che vanno convinti e bisogna vedere che argomenti ho e quindi parliamo del tema del come portare il il cambiamento in innovativo in azienda no ci abbiamo già parlato della visione che avete voi per la vostra organizzazione e diciamo che è chiaro che se poi io questa in questa visione è previsto che io giochi in in difesa no minimizzando qualsiasi investimento non vitale no magari perché non si ha in mente un progetto non si è intravisto dove andare però può essere che mi trovo comunque di fronte a una situazione in cui sono costretto a cambiare per mettere in sicurezza il mio business e allora come comincia la storia diciamo che il leader noi adesso vi ricordo che ci siamo messi dal punto di vista del leader di chi guida no o di chi lo aiuta deve tenere il radar acceso sempre no e il mondo manda continuamente degli stimoli e qui c'è la capacità di vedere no come reagisco cosa considero e e poi c'è la visione strategica perché non è mica così semplice capire quando è il momento di muoversi quando invece è meglio stare fermi non banalizziamo non è che il cambiamento va bene di per sé qualsiasi cambiamento sempre no quello diventa anche isterismo no ecco se pensando a una scala di priorità diciamo che potrebbe che potrebbe essere applicabile in questo caso c'è un modellino carino della rapid transformation di y che fa vedere queste cinque queste cinque fasi diciamo chiaramente se io non ho i soldi in cassa per per pagare le bollette gli stipendi devo occuparmi di quello e allora magari mi serve credito sconti promozioni fermo tutte le spese discrezionali è chiaro mi devo mettere in sicurezza la cosa subito dopo di cui mi occupo è di diciamo consolidare la mia capacità in modo da poter soddisfare diciamo i clienti che ho ma anche quelli nuovi tenermeli i clienti sostanzialmente e quindi rivedere gli approvvigionamenti le priorità sui canali sui prodotti no ragionare sui scenari poi il tema della continuità quindi usare la crisi anche per dare una nuova dimensione ridimensionare nel senso di sia togliere il superfluo sia dare la dimensione nuova no quindi utilizzare quelli che sono i finanziamenti disponibili i fondi che che ci sono che arriveranno riprogettare no la mia organizzazione qui e qui entra dentro semplificare automatizzare quindi è difficile che io possa farlo senza digitalizzare e tutti questi sono momenti di cambiamento per poi arrivare alla flessibilità quindi razionalizzare semplificare rafforzare diciamo la robustezza organizzativa e qui per esempio possiamo parlare di smart working di processi produttivi fino arrivare all'innovazione diciamo a tutto tondo con anche magari comprese joint venture merge acquisition quello che è lavorare a tutto campo anche sulle fonti di finanziamento di capitale ora questo è uno spettro amplissimo no però l'origine del cambiamento è sicuramente è da queste parti qui e a questo punto pronti che si va no cioè come nasce il cambiamento nasce da quelle cose che dicevamo prima che vanno a impattare su su quelle dimensioni che abbiamo visto e a questo punto io farò partire una cosa chiamatelo come volete ma insomma un progetto un flusso di lavoro un tavolo di lavoro quello che volete voi che va a cambiare i processi sistemi l'organizzazione le skill insomma va a produrre il cambiamento ecco e come dicevo prima lo affianco con un progetto di gestione del cambiamento chiamiamolo così magari potremmo chiamarlo anche un progetto di facilitazione forse sarebbe più onesto no perché appunto si tratta di facilitare gestire è come dire si fa con qualcosa su cui hai tutte le leve e non non sempre le abbiamo dove il tema diventa comunicare bene coinvolgere ingaggiare supportare con la formazione oppure spesso il tema è lavorare su la fascia intermedia dei responsabili nell'organizzazione che sono poi quelli che devono governare sono quelli da cui le persone vanno in prima istanza a farsi spiegare le cose sono quelli che se sono convinti e lo trasmettono questo funziona e l'organizzazione va avanti e se invece voi voi al top magari siete convinti ma loro no indovina che messaggio passa in generale come come il discorso prima della della cultura ora se io come dicevo prima faccio un progetto per realizzare il cambiamento come abbiamo visto prima è un progetto per la gestione del cambiamento mi serve mi potrebbe essere utile un modo di leggere il 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 cambiamento no il ciclo del cambiamento e qui vi faccio vedere questo framework che è liberamente molto liberamente ispirato a quello di asso change che è l'associazione italiana del cambiamento organizzativo di cui io sono consigliere e responsabile per la parte per le attività formative e che propone un simpatico modellino qui l'ho un po l'ho un po modificato ma nella sostanza è preso da lì ed è e funziona in quattro fasi no quattro fasi di questo ciclo del cambiamento con diciamo con quattro figure di riferimento da tenere presenti a cosa serve un framework serve per avere le idee chiare per avere diciamo un identificare i componenti non un po come la descrizione del sistema un po il manualetto di istruzioni di quando cambia qualcosa per altrimenti è tutta una roba di intuito e di magia che non non aiuta quindi se quando facciamo un cambiamento facciamo un attimo mente locale che c'è un momento in cui inizia la fase di scenari no di definizione dei scenari quando incominciano diciamo quando quella quella visione nella testa di chi è il change maker che sia al top che sia in un punto qualsiasi dell'organizzazione mi viene sospetto che ci possa essere uno scenario nel quale cambiando alcune cose si possa andare a stare meglio o meno peggio no per cui uno dice mi viene sospetto che se cambiassimo il sistema di incentivazione dei nostri agenti di vendita potremmo risolvere il problema che i clienti restano sei mesi e poi cancellano l'abbonamento no mentre invece io perché siano profittabili bisogna che restino almeno due anni e abbiamo un problema abbiamo un problema abbiamo un problema adesso mi viene il dubbio che il punto stia nel sistema di incentivazione quando questa cosa si consolida non è ancora ben definito mi è venuto un dubbio io farò delle esplorazioni farò delle delle valutazioni magari quella strada lì non porta da nessuna parte ma mentre vado ne scopro un'altra quando è che finisce la fase di scenario quando io arrivo a definire uno scenario chiaro che per esempio vorrebbe dire no ok in effetti la mossa dell'andare a cambiare il sistema di incentivazione dei miei venditori potrebbe essere la cosa chiave ora è diciamo è evidente che questa è anche la fase in cui diciamo chi è più coinvolto è lo sponsor per definizione sponsor è chi ci mette la faccia ma anche i soldi no che ha il budget per fare il cambiamento altrimenti oppure è qualcuno che diciamo il percorso inizia con qualcuno qui nell'organizzazione che poi però deve cercare uno sponsor e convincerlo in modo che lui diventi il motore di questa di questa cosa quando io ho uno scenario definito e non è mica ancora identificato una soluzione quindi c'è una fase di progettazione dove ad esempio l'idea del cambiare il sistema di incentivazione per i venditori deve essere deve essere sviluppata in siccome lo cambiamo però no come fatto questo nuovo sistema che impatti ha c'è un sistema informativo da modificare l'algoritmo che vogliamo usare come è fatto questo funziona l'altro non funziona qui c'è tutto un lavorio di progettazione come qualsiasi progetto ecco qua se vogliamo è coinvolgimento maggiore è della popolazione la parte alta della popolazione dei change agents cioè di coloro che sono agenti di cambiamento tutto il team di progetto che ho metto in piedi è un agente di cambiamento poi dopo i change agent possono essere anche più diffusi nell'organizzazione con i soliti le solite modalità che vediamo spesso praticate quindi trovo degli alleati delle persone gli ambassador dei dei rappresentanti che coinvolgo più più avanti nel ciclo di vita del cambiamento perché diventino un po la voce e le orecchie del progetto soprattutto se ho un come dire un un'organizzazione articolata noi in cui come dire non è facile parlare con tutti e capire avere feedback da tutti finito questa questa fase diciamo di la fase di progettazione finisce quando io ho definito il progetto in qualche modo quindi questa è molto simile alla parte di planning nel project management diciamo così e posso iniziare la fase di realizzazione ora in questa fase è evidente che oltre a gli agenti del cambiamento incominciano a diventare coinvolti a seconda delle modalità con cui viene realizzato il cambiamento i responsabili operativi chi sono i responsabili operativi sono i capi degli utilizzatori vai a dire nell'esempio degli agenti a cui vado a cambiare il sistema di commissioni gli utilizzatori saranno gli agenti di vendita i responsabili operativi saranno i capi area e i change agent saranno il team di progetto che magari è fatto da qualcuno delle centrale delle vendite più il consulente esterno più un analista dell'IT che è particolarmente versato per questo tipo di progetti questi sono dentro tra i change agent quindi i capi le persone iniziano ad essere coinvolte in maniera più pesante possono esserlo anche prima naturalmente perché nella fase di progettazione ma non in modo massiccio magari alcuni dei capi saranno coinvolti in anticipo però tutti gli altri devono essere poi coinvolti nel momento della realizzazione infatti diciamo la parola chiave è dare un contributo no far vedere che le cose possano possono funzionare ecco finché quando arrivo alla fine di questo e questo ciclo di vita questo punto arriva un punto in cui come dire le cose sono fatte si tratta di se volete tornare a quella quella radice quadrata di prima possiamo anche riuscirci con apposito ecco sono arrivato diciamo dipende sono arrivato qua e inizia una fase di stabilizzazione dipende come la leggiamo e potrei anche essere arrivato qua e dire va bene progetto è finito inizia una fase stabilizzazione sarebbe un errore perché il progetto è finito quando io ho ottenuto il beneficio che volevo ottenere prima non direi ecco questo è una trappola ne parliamo poi la prossima volta delle trappole ma sicuramente ve l'anticipo è un trappolone in cui facile cadere e quindi sono arrivato qua sono nella fase di diciamo in cui in qualche modo consolido no quello che quello che è stato il cambiamento e qui il tema è stabilizzare standardizzare ma anche riconoscere alle persone che hanno collaborato e un po a tutti cioè il momento in cui io creo con la cultura nel cambiamento è un momento critico da questo punto di vista per creare cultura del cambiamento perché è il momento in cui io posso riraccontare tutta la storia di quello che è successo che mi ha portato ad arrivare qua dicendo il ruolo di ciascuno chi ha fatto e dando un ruolo anche a chi ha partecipato poco vi ricordate che noi ci stiamo mettendo dal punto di vista del change maker ma ma ci sono anche tutti gli altri che in fondo li abbiamo dovuti trascinare tra virgolette o qualcuno addirittura ha percorso con anche come dire soffrendoci la famosa curva del cambiamento ecco e di questi non parliamo perché imbarazzante parlarne sarebbe un errore nel senso che se la cultura del cambiamento è anche sapere che può succedere che cambiamo e può succedere che questo cambiamento io non lo prenda per il verso giusto e non per questo sono come dire fuori dai giochi perché ci sono mille mille modi per per uscirne è importante perché la prossima volta che c'è un cambiamento e io rischio di prenderlo per il lato sbagliato so che posso per esempio contare sull'aiuto del mio capo del responsabile operativo che magari mi dà una mano a vedere le cose da un altro punto di vista se invece come dire quando quando uno non sta al gioco viene immediatamente marchiato come poco proattivo poco orientato al cambiamento eccetera ecco questo può essere controintuitivo ma potrebbe non aiutare la volta successiva oppure invece può funzionare in quei casi dove pensiamo che non ci sia possibilità di recuperare le persone ma questo punto diventa un altro tipo di decisione quindi questo così è un modo per per vedere la prossima volta ci torniamo sopra e soprattutto la prossima volta andiamo a vedere gli aspetti poi pratici di commettere in in campo diciamo questo tipo di approccio faccio un attimo che ancora una decina di minuti quindi faccio un attimo di recap non so se ci sono delle domande sulla chat adesso poi andiamo a vedere se qualcuno ha scritto o se andrea se in ascolto e me le passi tu queste domande non credo perché andava via quindi non ne vedo di domande mi viene il dubbio che possano farle devo verificare questa cosa per la prossima volta perché siamo è tutto che visto che ci sei tu avevi qualche considerazione domanda sottolineatura una cosa che ti ha colpito ma sicuramente mi piace molto questi è rimarcato diverse volte negli esempi che hai fatto anche il fatto che nel ramp up di un'attività ci sia sempre una fase di calo o generalmente ci sia una fase di calo e credo sia interessante sottolineare come questa tante volte è quella che ci porta un pochino magari ad aver paura del cambiamento perché sicuramente qualcosa che non che ci porta fuori dalla nostra comfort zone ma che ci obbliga ad avere una fase di ramp up anche noi nel momento in cui andiamo andiamo a cambiare quindi una prima fase in cui ci dobbiamo applicare dobbiamo imparare qualcosa di nuovo e questo per poi magari raggiungere qualche risultato diverso rispetto a quello che avevamo prima lo vivo che io ho cerco di viverlo ogni giorno sulla mia pelle è faticoso perché vuol dire appunto la passeggiata vuol dire che non stai cambiando veramente delle cose sostanziali quindi può anche andare bene così ma bisogna saperlo no ma certo certo chiaro chiaro quindi si dice che poi è una doppia fatica secondo me perché sia è proprio fatica mentale perché ti devi confrontare con qualcosa che è diverso da quello che fai che fai normalmente e poi fatica fisica perché chiaramente di solito quando cambi qualcosa appunto devi andare a fare della nuova formazione a mettere in piedi dei processi in maniera diversa quindi può essere visto in maniera molto diversa o stimolante quindi a uno che piace che piace questo tipo di attività oppure può essere vissuta in maniera molto molto faticosa davvero se uno non non so se come dicevi che tu prima non è tutto questione di mentalità nel senso che però sicuramente un uno che più propenso a vivere un cambiamento come qualcosa di bello diciamo questa fatica magari la riesce ad assorbire un pochino meglio ecco poi allora dipende sempre dalla visione iniziale perché poi ci sono certi cambiamenti che sono vantaggiosi per alcuni e svantaggiosi per altri allora pretendere che quelli per i quali il cambiamento è oggettivamente svantaggioso siano pure contenti diventa una pretesa curiosa no anche se a volte io l'ho vista praticare nelle organizzazioni ma come non capiscono vediamo chi è che non capisce di questo poi parliamo la prossima volta più approfonditamente perché appunto nelle trappole cioè anticipo senza spoilerare ma voglio dire l'ottanta per cento dei progetti non arrivano ai risultati desiderati in maniera significativa l'ottanta per cento ok non superano una certa percentuale del risultato quindi c'è un problemino nei progetti di cambiamento ve lo racconto meglio giovedì però sicuramente c'è un tema di visione no di di perché che è di mentalità che ti può rendere molto più faticoso cioè ammesso che il cambiamento abbia un senso anche per te a seconda della tua visione personale e della visione soprattutto però che è stata espressa dalla leadership in qualche modo di questo cambiamento tu puoi far cioè può essere molto più duro quindi molto più profondo e molto più largo questo fossato oppure un pochino più tranquillo quindi c'è una grossa responsabilità ecco nel nelle mani di chi di chi il cambiamento si mette si prende la responsabilità di di avviarlo di gestirlo insomma ecco cioè noi credere credo noi noi che siamo qui compresi quelli che ascoltano ovviamente mi piacerà capire se la prossima volta città anche qualche ricetta per cercare di mitigare questo l'impatto diciamo anche su perché come dici tu sono d'accordissimo sul fatto che magari se 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 introduco una nuova tecnologia nell'ambiente produttivo piuttosto che quello amministrativo non è detto che la cosa semplifichi sempre la vita a tutti magari qualche qualche operazione la rende la rende addirittura più complessa ma poi nel diciamo nel computo generale permette di migliorare le cose allora magari mi piacerebbe capire come come bisogna muoversi in quel caso verso chi magari appunto è dall'altra parte della medaglia cioè subisce un po' il il cambiamento tra virgolette beh guarda adesso abbiamo un bel numero di partecipanti quindi per fare in modo che tornino tutti la prossima volta vi dirò che ho una fantastica bacchetta ma formula magica che rivelerò la prossima volta quindi venite numerosi perché verrete resi e dotti di questa grande di questa grande idea in realtà va bene non è proprio così non ci sono bacchette magiche però ci sono un po' di trappole che è bene sapere quali sono e quindi ne parliamo estensivamente la prossima volta perché diciamo metà del problema è che io non mi rendo neanche conto e quindi come dire parto in quarta no penso la faccio facile o vedo le difficoltà dove non dove non sono quelle più grosse e quindi investo male le mie energie non mi preparano non ci arrivo preparato parto per la gita in montagna senza senza l'acqua e senza la magliettina di ricambio e poi mi prendo il raffreddore no quindi questo è importantissimo e poi strumenti si parliamo del change plan del change management plan che è non dico che sia la bacchetta magica però se non lo se manco hai l'idea di come che ci potrebbe essere che converrebbe farlo e insomma siamo proprio in una situazione di grave rischio no perché poi alla fine tutta questa storia del change management o della facilitazione del cambiamento è proprio una questione di polizza assicurativa sul tuo investimento so se sei d'accordo cioè tu fai un investimento di boh centomila euro centomila franchi per metter giù il nuovo sistema informativo ma se poi le gente non lo usa al livello a cui può essere usato non ne avrà il beneficio cioè quel business che stava in piedi centomila franchi perché o centomila euro perché c'era un vantaggio maggiore di centomila euro nel giro di tre anni spero no se no hai preso una decisione campata per aria può anche essere però voglio dire il vantaggio ce l'hai se poi i comportamenti cambiano se arrivano quelle famose performance dei tre pallozzi che vedevamo prima questi qui no e quindi insomma ecco questo questo sì direi che è rilevante la domanda che facevi quindi con ben tre o quattro minuti di anticipo questa è l'agenda guarda intanto scusami alessandro intanto vedo che è arrivato è arrivata qualcosina in realtà perché arrivano arrivano ad antonio ad antonio bassi le domande quindi qualcosa ce le sta incollando adesso benissimo ora le vediamo e comunque ecco se per la prossima volta avete qualche situazione qualche caso qualche cosa che diciamo a cui magari fa riferimento mentre vi racconto questi aspetti metodologici se me lo dite io ci provo naturalmente non so se adesso abbiamo qualcosa in questi ultimi tre minuti almeno una battuta per chi confermo che la che la prossima volta giovedì dalle dalle se dalle 16 30 alle 18 30 avremo avremo un altro un altro contributo da parte di alessandro gianni perfetto e infatti ho scritto la slide ma con l'orario sbagliato perché abbiamo detto 16 30 va bene quindi direi che a questo punto l'appuntamento è per giovedì e spero che la cosa sono anche queste due ore siano state anche un po piacevoli ma soprattutto interessanti insomma per per chi ha partecipato fatecelo sapere io ti io ti ringrazio alessandro e il l'invito per la per la prossima sessione giovedì arriverà come reminder comunque un giorno prima come come vi è capitato come vi è capitato per questo o poco prima anche dell'inizio della inizio del webinar quindi non vi preoccupate che vi che verrete che verrete diciamo risolle citati per la per la partecipazione faccio gli onori di casa visto che ci sono ancora ringrazio tutti e vi saluto ea giovedì prossimo allora grazie arrivederci ciao a tutti grazie grazie